e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui su minecraft insieme a rexius e oggi siamo qui per fare delle bedwars una persona che gli gira un po' la testa e questa bruttissima persona qua prima era brutta c'è brutti ecco si è suicidato prima era brutto adesso è bruttissimo lui che si fa il bagno in piscina me lo faccio anch'io allora copriamo per bene il mettiamo le coperte sul letto perché altrimenti prende ecco ecco vabbè grande sei fortissimo oh guarda fai il pillar fai il pillar guarda quanto è corretto il tizio la dietro guarda che fa il pillar guarda 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 lì guarda 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 quanto è convinto il tizio ok ucciso ok uccisi due che bello sono troppo fortnite sei troppo forte cioè ragazzi non droppate la spada non siete forti ma questo qua è un nab madonna mia ma contro chi sto giocando chi 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 madonna mia ecco il letto è il letto è open il letto è open grande grande cavolo hai anche fatto una final kill spero che ci muori no perché mi volevo prendere una final kill io vabbè allora ragazzi il primo team il primo team eliminato allora andiamo adesso da chi si va da dubbo allora chi chi ci sta lì da andiamo dai grey noi gris sono morti andiamo dai rosa anche i rosa sono morti no il rosa da solo e vicino ai rosa chi c'è scusate non lo so poi vabbè poi vediamo comunque ok rubiamoci tutti i materiali dei grey senza spittare perché so che tu ci metteresti 60 anni per spittare per venire qua quindi vabbè mi dispiace ma ci sono gli acqua ci sono gli acqua sì ok andiamo dai acqua il team maledetto il team ma non c'è un tizio là sotto ok uccidiamo prima questo tizio che credo sia il rosa no è l'acqua no mi dispiace allora c'è una bella corazza gli utensili soprattutto che me ne erano dimenticati qua c'abbiamo uno spawn più prolifico qui c'abbiamo uno spawn più prolifico del canada ecco sono morto quello lì che è un botto ok allora andiamo uccidere gli acqua perché dobbiamo andare a uccidere gli acqua perché gli acqua sono il team maledetto grande ok grande chi ti lascia sentite raga io gli ho fatto il giro a questo perché stanno martellando sopra casa mia ci vuoi tra poco ci cade il tetto in testa ma lol ma lol lone sentite allora siamo tutti senza letto tranne gli acqua allora noi contro gli acqua ok dobbiamo andare addosso a loro prima che se ne accorgano che siamo rimasti da soli quindi ok io ho due tnt e una fire palla quindi diciamo diciamo che non sono diciamo che non so hai hai l'accetta anche l'accetta di livello 2 se ti interessa come lei bloc trappato per caso poi vedo dare dalla rec poi prendiamo una bella accetta una accetta una potenziatona e poi non mi ha visto non mi ha visto grande che lo volevo rompere il letto però ecco grande uno è morto mi ha fatto il giro di base ok da me il tizio è da me è da me è da me è da me dov'è? dov'è? dov'è è sceso? solo che non so dov'è aiuto sentite rega io io la provo dai no ho provato a fare il fireball jump solo che non ci arrivavo sono in base degli acqua ma che ne so io ho sentito dei rumori ma solo che ma non lo sento più forse è morto forse si sta uccidendo che ne so io no è qua è qua è qua è qua si ma è una buona ma non è capace mi ha ucciso si quindi ragazzi questo video termina qua io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche di video post e live che ci saranno su questo bellissimo canale bellissimo poi non tanto però vabbè condividere il video con tutti i vostri amici e anche col barista al bar con la nonna con la mamma con la zia e con il cane perché una partita abbiamo fatto e una partita abbiamo vinto e niente ragazzuoli noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzuoli di youtube ciao 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 ciao